Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi della coppia composta da Christopher McNabb e Courtney Bell. Vi anticipo, senza esagerare, che questi due fidanzati possono aggiudicarsi il titolo di peggior coppia esistente sulla faccia della terra. Di certo, le loro azioni vi lasceranno senza parole. Iniziamo il video inquadrando le due figure di Christopher e Courtney, il loro passato e come si sono conosciuti, per poi descrivere l'orribile crimine che hanno commesso. A mio avviso, il peggiore che si possa compiere. Ma procediamo con ordine. Christopher McNabb, detto Chris, nasce il 23 marzo del 1991, cresce a Cartersville in Georgia, a nord di Atlanta, dove vive con suo padre Michael e la sua matrigna Crystal. In realtà ci sono poche fonti sul suo passato e si presume che la madre biologica l'abbia abbandonato quando era molto piccolo, così Chris viene accudito dalla matrigna e dal padre. Michael, il padre di Chris, è un gran lavoratore e vuole che suo figlio cresca in una famiglia dove regna la stabilità. Tuttavia, una volta diventato adolescente, Chris inizia a creare i primi problemi. È aggressivo, disobbedisce, fa tutto ciò che gli pare, convinto che le regole per lui non valgano e inizia addirittura a delinquere. Chris rende la vita di suo padre Michael un vero e proprio incubo. Suo figlio ha soltanto 15 anni quando richiama per la prima volta l'attenzione della polizia, dando il via a una rissa. A quanto pare non vengono presentate accuse contro di lui e la situazione si risolve senza drastiche conseguenze. Ma soltanto qualche mese più tardi, Chris, che ha compiuto 15 anni, si mette di nuovo nei guai con la legge. Il ragazzino si introduce in una casa e ruba alcuni effetti personali dei proprietari, ma la polizia lo becca e lo accusa di violazione di domicilio e furto. Tuttavia, il ladruncolo non riceve alcuna punizione per il reato commesso. Inoltre, Chris scappa spesso di casa e sparisce per giorni interi. Ogni singola volta il suo padre sporge una denuncia di scomparsa alla polizia, che ritrova il minore nascosto in un motel abbandonato, intento ad assumere sostanze. La dipendenza da sostanze sarà una costante per Chris, che avrà parecchi problemi a riguardo pure d'adulto. Anche quando è a casa la situazione è ingestibile. Chris è indisciplinato, non ascolta né suo padre né tantomeno la sua matrigna, anzi non li rispetta. Spesso lo vista nel loro portafogli e sottrae a entrambi dei soldi. Poi ruba alcuni gioielli della matrigna per un valore complessivo di 7.000 dollari. Questi furti perseguono un unico e solo scopo, avere denaro per continuare a comprare le sostanze di cui a soli 15 anni è già dipendente. Chris, come detto, ha un temperamento aggressivo, tanto che spesso i vicini, allertati dalle sue grida folli, contattano la polizia. In un'occasione Chris assale il padre, allora è la matrigna a chiamare la polizia. Così il ragazzo viene accusato di percosse e lesioni. Per sfogarsi meglio l'adolescente è anche solito distruggere gli oggetti presenti in casa, ma non solo. Un giorno, mentre il padre di Chris dorme sul divano, suo figlio gli si avvicina e gli fruga nelle tasche per rubargli un pacchetto di sigarette. Ma Michael si sveglia e lo affronta. Gli chiede, esasperato, perché continui a comportarsi così. Perché non riesca a smettere di combinare guai per 24 ore di fila. Chris, a questo punto, va totalmente fuori di testa e inizia a scaraventare sul pavimento qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Poi prende a pugni il muro del soggiorno e lo sfonda, creando un buco enorme. È fuori controllo, instabile, ma ogni volta che il padre o i vicini chiamano la polizia, Chris cerca di ribaltare la situazione. Racconta che è Michael suo padre quello che perde la pazienza facilmente e gli mette le mani addosso, perché è un uomo violento. Ammette di aver fatto quel buco nel muro, ma dice che prima suo padre l'ha preso a pugni in faccia 20 volte e gli ha frustato la schiena con una cintura. La polizia, scrupolosa, valuta queste accuse, anche se è difficile credere a Chris. Quei 20 pugni sferrati al volto avrebbero dovuto lasciargli qualche segno dei lividi. Invece, il faccino di Chris non reca neanche la minima traccia di percosse. La polizia allora chiede al ragazzo di mostrare la schiena, che di certo dei segni li riporterà se suo padre l'ha colpito con una cintura, ma il dorso di Chris non è nemmeno arrossato. Gli agenti intuiscono che lui mente e che lo fa in continuazione. Cerca di manipolare le persone e, quando viene interrogato, racconta la storia da un altro punto di vista, indicandosi come vittima. Nel frattempo, gli anni passano. Quando Chris compie 17 anni, inizia a commettere dei reati alquanto gravi. Il 7 giugno del 2007 Chris decide di mettere in atto la sua prima grande rapina. Nota un'azienda locale che ha un nuovo camion Ford parcheggiato fuori dalla ditta. Così, oltrepassa la rete metallica che la circonda, sale sul camion, lo mette in moto e accelera fino a buttare giù la recinzione. Ovviamente la sua grande impresa non è stata compiuta in modo silenzioso, quindi entro pochi giorni Chris viene catturato e accusato di violazione di proprietà, di danni a quest'ultima e di furto. Passano appena 11 giorni quando il ragazzo si introduce in un'altra azienda e ruba un altro camion replicando le modalità del primo furto. Questa volta però Chris rischia di investire una guardia della sicurezza che stava cercando di fermarlo e viene arrestato di nuovo. Sembra proprio che Chris non possa fare a meno di compiere questi furti, anche se ruba dei veicoli che non può guidare e non pare neanche interessato a usarli. Tuttavia è il caso di punirlo seriamente questa volta perché il ragazzo rappresenta un chiaro pericolo per gli altri. Ciò nonostante non viene preso alcun provvedimento sostanzioso e Chris viene puntualmente rilasciato pronto a commettere il solito reato dopo appena nove giorni. Anche questa volta il rompe in un'azienda sale a bordo dell'auto che intende rubare e sfonde il recinto per scappare. Viene nuovamente arrestato ma anche nuovamente rilasciato. Tre giorni dopo entra in casa di un amico e ruba una playstation 2, poi ruba anche la sua automobile e infine se ne va tranquillo. La storia si ripete, un altro arresto e un conseguente rilascio. Il giorno successivo infatti Chris si mette in un'altra attività e ruba un'altra macchina. Quali saranno le conseguenze secondo voi? Sì, viene ancora arrestato ma subito rilasciato. A questo punto mi sorge un dubbio, forse la polizia della Georgia non ha voglia di lavorare. Chris è colpevole di una condotta illecita reiterata, tra l'altro in tempi brevissimi, ma non viene mai punito per i reati commessi. Si contano ben cinque furti in meno di un mese senza che nessuno abbia preso provvedimenti. Perché? Fortunatamente dopo l'ennesimo furto, Chris viene incriminato e condannato a quattro anni di detenzione, così rimane dietro le sbarre fino ai suoi 21 anni. A questo punto mettiamo da parte Chris per parlare del passato di Courtney. Courtney Bell nasce il 29 marzo del 1993 da Tim Bell e Pamela Hembree, detta Pam. Sua madre però l'abbandona ben presto, ha portato a termine la gravidanza ma non vuole avere nulla a che fare con lei. Courtney quindi viene cresciuta esclusivamente dal padre, anche se Pam in realtà non sparisce né dalla vita di Tim né dalla vita di Courtney. Pam ha avuto ben sette figli da cinque uomini diversi e ne ha abbandonati cinque, affidandoli al padre. Dunque ciò che è successo con Courtney non è un caso isolato, tuttavia Pam continua ad andare a casa di Tim e si presenta a Courtney come un'amica di famiglia. Courtney crescendo si imbatte spesso in Pam in giro per la città ed è convinta che la donna sia un'amica del padre che va spesso a cena da loro ma niente di più. Insomma Pam non ha mai voluto essere una mamma per Courtney e va a trovare Tim solo quando è in gravi difficoltà economiche e ha bisogno di sfamarsi. Tim dà il canto suo e cerca sempre di aiutarla, accetta il fatto che Pam voglia essere presente nella sua vita e in quella di sua figlia assumendo un'altra veste. Per lui è comunque meglio di niente anche se reputo davvero triste che questa donna si finga un'altra persona quando ha davanti a sé la propria figlia ignara di tutto. Tim fa del suo meglio per prendersi cura di Courtney che però a 12 anni scopre da sola che Pam è la sua mamma biologica. Mentre fruga nell'auto di famiglia alla ricerca delle sigarette la ragazzina trova un braccialetto rilasciato dall'ospedale quando è nata con sopra il suo nome ma non solo c'è anche quello di Pamela Henry. Credo che Courtney in questo momento abbia vissuto un trauma, vedeva Pam da quando era piccola, la conosceva bene perché andava a spesso a casa sua ma quella spacciata per un'amica di famiglia in realtà è sua mamma. Inoltre non è finita qui, quando la ragazzina scopre la verità vorrebbe instaurare una relazione più stretta con Pam, legare con lei ma sua madre non ne vuole proprio sapere. Non sparisce ma continua a farsi considerare un'amica di famiglia. Ora arriviamo al 2013 quando Courtney ha 20 anni mentre Chris ne ha 23. è proprio Pam a presentare Chris alla sua figlia non riconosciuta. Appena i due si incontrano esplode il colpo di fulmine, il ragazzo sostiene di non essersi mai sentito così prima d'ora, si innamora di Courtney in pochissimo tempo e a lei succede lo stesso. Tuttavia alla novella coppia sfugge un piccolo dettaglio. I due sono cugini di primo grado, infatti Chris è il nipote di Pam, figlio di suo fratello Michael. Ma la cosa peggiore in tutto questo è che né Chris né Courtney sono al corrente della loro parentela. Pam li ha fatti incontrare ma non ha detto, hey Chris ti presento Courtney, tua cugina. Mentre i due si frequentano in ogni caso ci pensa un altro parente a dar loro la notizia. Onestamente io rimarrei scioccata se dopo un mese di relazione con un ragazzo qualcuno mi rivelasse che in realtà è il mio cugino. Ma secondo voi come hanno reagito Chris e Courtney? Beh, allora non importa molto, d'altronde sono innamorati. Chris afferma, ormai non posso fare a meno di ascoltare il mio cuore. Immagino che la maggior parte delle persone del mondo pensi che questo sia totalmente folle, ma non io. Sì, è strano, non rifarei questa cosa se potessi. In realtà entrambe le famiglie sono imbarazzate per questa situazione, in particolare il padre di Chris, Michael, è inorridito dal fatto che suo figlio esca con la nipote. Ma Chris e a Courtney, come detto, non importa. Per loro questo aspetto non è rilevante, si amano alla follia, tanto che in breve tempo iniziano a chiamarsi marito e moglie, anche se non si sono mai sposati legalmente. La coppia vuole far evolvere la propria relazione e prova a mettere al mondo un figlio. Così a un anno dall'inizio della frequentazione Courtney rimane incinta. Siamo nel 2015, Chris ha 25 anni mentre Courtney ne ha 22, quando viene alla luce la loro prima figlia, Clarissa. Courtney spera che la nascita di Clarissa possa ricucire le sue ferite. Vuole una famiglia unita, vuole essere per sua figlia la madre che lei non ha mai avuto, ma la realtà è diversa dai sogni. Prima di tutto Chris continua a dimostrarsi instabile, è offensivo e manesco con lei, tanto che i familiari di Courtney si accorgono che la sua pelle è piena di lividi. Inoltre, per allontanarsi il più possibile dal modello del partner esemplare, Chris tradisce Courtney e in realtà lo aveva già fatto. Infatti, il ragazzo ha creato una moltitudine di account fake su Facebook e per un periodo del 2014 è andato a letto con una certa Danielle, mentre Courtney era incinta. Quando Courtney lo ha scoperto è riuscita a rintracciare Danielle, che tra l'altro abitava in zona, perché Chris è stato così furbo da trovarsi un amante nel quartiere accanto al suo. Le due donne si sono incontrate e hanno avuto un altierco abbastanza pesante. Poi Danielle ha pensato bene di smettere di frequentare Chris e il tutto sembrava risolto, ma ricordatevi che non c'è limite al peggio. Tra i vari account fake, Chris ne utilizza uno per chattare con niente po' di meno che Pam. Avete capito benissimo, la zia Pam, la mamma biologica della sua compagna Courtney. Ci sono prove del fatto che i due sono andati a letto insieme più volte e ci sono anche delle foto di Pam e Chris vicini, in cui sembrano molto legati. Immagino abbiate capito cosa intendo. In questo stesso periodo Chris inizia a tatuarsi soprattutto la faccia. Sopra il sopracciglio destro si tatua la parola lealtà e la trovo una scelta bizzarra e poco rappresentativa. Dubito che Chris sappia realmente cosa significhi essere leali. Oltre a essere aggressivo e rispettoso nei confronti di Courtney, Chris è un padre assente. Preferisce andare a letto con letteralmente chiunque, intrattenersi con una sconosciuta piuttosto che stare a casa con la sua compagna e la propria figlia. Soprattutto continua ad avere problemi con la legge. La situazione non è affatto cambiata rispetto a quando era più giovane. Infatti a distanza di un paio di mesi dalla nascita di Clarissa, Chris colleziona ben cinque mandati di arresto. Si rende irreperibile. Poi, quando la polizia lo raggiunge, fugge. In un episodio, mentre sta scappando e gli agenti lo rincorrono, Chris colpisce uno degli ufficiali in faccia con il ramo di un albero. Il ramo procura un grosso taglio sul volto dell'agente e così Chris viene arrestato per tutti i suoi mandati precedenti, accusato dell'aggressione dell'ufficiale di polizia e mandato in prigione per 14 mesi. Mentre Chris è in carcere, Courtney vive con suo padre Tim, che anche in questo caso fa tutto il possibile per prendersi cura sia di sua figlia che della nipotina Clarissa. Arriviamo a settembre del 2016, quando Chris viene rilasciato e ora ha un desiderio. Vuole avere una famiglia, cosa che ha già per inciso, ma siccome non ha vissuto appieno la nascita di Clarissa perché è occupato a commettere reati e scappare dalla polizia, gli viene la fantastica idea di fare un altro bambino. Considerando il comportamento che ha tenuto fino a poco prima, non capisco proprio questa sua volontà. A Chris, di Clarissa, la sua prima figlia, non è mai importato nulla. Ha sempre reputato più importante chattare con altre donne, andarci a letto o soddisfare la sua dipendenza perché in tutto questo tempo Chris non si è mai ripulito e tra poco affrontiamo anche questo aspetto. Tuttavia in tempi record Courtney rimane di nuovo incinta ed è proprio in questo periodo che la coppia decide di fare un altro grande passo. I due vogliono trasferirsi e vivere da soli, senza contare sull'aiuto dei propri genitori, che era stato davvero prezioso. Courtney e Chris non possono permettersi chissà quale dimora e finiscono in un campo caravan a Covington, Georgia. All'inizio pare tutto tranquillo, ora che hanno una casa tutta loro, Courtney e Chris si sentono una famiglia per davvero. Chris, per mantenere la famiglia, svolge alcuni lavoretti, sono saltuari per ora, ma la situazione può migliorare e potrebbe trovare un lavoro fisso. Courtney, che è incinta, resta a occuparsi della casa. A ogni modo i loro genitori sono sempre pronte ad aiutarli, ma ahimè, c'è un problema. La radicata dipendenza che fin da adolescente Chris ha per una sostanza molto pesante. È quella che si vede nella serie TV Breaking Bad, ossia i cristalli. Direi che ci siamo capiti, dai. Ho deciso di parlarne brevemente perché, per comprendere appieno il caso, è necessario inquadrare questa dipendenza. La sostanza che Chris assume è uno stimolante del sistema nervoso centrale, che causa ipertensione e tachicardia, consenso di accresciuta sicurezza, socievolezza ed energia. Elimina l'appetito e la fatica e può portare all'insonnia. Dopo lo stato di euforia, i consumatori diventano irritabili, agitati, ansiosi, depressi e apatici. Dunque, presumo che i problemi comportamentali di Chris rispetto alla sua incapacità di gestire la rabbia siano soprattutto una conseguenza dell'effetto down della sostanza. Ossia quando la sostanza inizia a scendere e il suo effetto inizia a sfumare. Anche Kearney ha serie di problemi di dipendenza, ma non è una consumatrice abituale di cristalli. Li usa ogni tanto, ma non sono la sua sostanza preferita. La coppia ovviamente ci prova a mantenere la casa pulita, ma dopo tre settimane la roulotte è già un disastro. Non solo è disordinata, ma è soprattutto sporca. C'è roba ammassata ovunque, è impossibile individuare uno spazio libero e addirittura riuscire a muoversi all'interno. La roulotte ha due camere da letto, ma quella in cui avrebbe dovuto alloggiare la piccola Clarissa è inutilizzabile, piena di cianfrusaglie accumulate. Quindi Chris, Clarissa e Kearney dormono nella stessa stanza, che peraltro è molto piccola. Infatti il lettino della bimba è letteralmente incastrata tra il letto matrimoniale e il muro. Chiariamo, se la famiglia avesse potuto permettersi un monolocale non ci sarebbe nulla da ridire, ma in presenza di una seconda stanza basterebbe poco per eliminare tutta la robaccia e renderla agibile. Questa situazione rende l'idea della problematicità di prendersi cura di una bambina quando si è affetti da una dipendenza. Le persone dipendenti mettono la ricerca e il consumo della sostanza prima di qualsiasi altra cosa, anche della propria figlia, specie in caso di uso cronico. Chris inoltre è ancora violento e Kearney ogni tanto appare con dei lividi in faccia e sul corpo. I vicini riferiscono che la coppia litiga in continuazione quando è sveglia, infatti sentono urla in interrotte e chiamano più volte la polizia, che riesce a sedare la situazione. Tuttavia in un'occasione le autorità intervengono perché Chris ha sfondato la finestra della roulotte durante uno scatto d'ira. Ma anche Kearney in questa storia non può essere esente da critiche. Anche lei pensa soprattutto a se stessa e alla sua dipendenza, non è una madre presente e gentile con Clarissa. Le cose in realtà hanno funzionato soltanto nel periodo in cui Chris era in prigione perché Kearney era rimasta a casa con suo padre che le dava una mano, ma ora è allo sbando. Purtroppo proprio in questo periodo mette al mondo la sua seconda figlia, Kalia, è il 23 settembre 2017. La bimba rimane in ospedale quattro giorni per dei controlli, ma per fortuna è in buona salute, quindi il 27 settembre Chris e Kearney la portano a casa. Tuttavia fin dal momento in cui è nata questa bambina non viene mai messa in primo piano, non viene vista né trattata come una priorità da parte dei suoi genitori. Quattro giorni dopo, il primo ottobre, Kearney ha la geniale idea di portare la neonata e Clarissa, che ormai ha due anni, a casa di sua cugina di nome Megan. Rimane a chiacchierare con Megan per un po', poi se ne va, lasciando la piccola e Clarissa a casa di sua cugina, sparendo completamente per due giorni. Pur sapendo che Megan ha già quattro figli di cui occuparsi, Kearney, senza dare alcuna spiegazione, le ha rifilato le sue due figlie. Ecco a cosa mi riferisco quando vi dico che nemmeno Kearney è un angelo. La cosa peggiore è che lei sparisce con Chris proprio per fare uso di sostanze in pace, senza dover pensare alle bambine. Megan è preoccupata, ora ha in casa ben sei bambini e non sa come affrontare la situazione, così chiama Tim, il padre di Kearney. Tim è davvero arrabbiato, va da Megan per recuperare le bambine e poi si reca al campo caravan in cui abita la coppia, per affrontarla. Ahimè, non solo non trova nessuno, ma si rende conto che la roulotte è un vero e proprio campo di battaglia, addirittura più in disordine del solito. Dunque Tim prende una decisione. Qualche tempo prima aveva regalato una macchina alla coppia, Chris doveva andare a lavorare, Kearney a fare la spesa, quindi avevano bisogno di un mezzo di trasporto. Tim, per punirli, per dargli una lezione, recupera la macchina parcheggiata davanti alla roulotte e si dirige a casa sua, insieme alle due bambine. Quando dopo due giorni Kearney si ripresenta tranquilla a casa di Megan per prendere le bambine, trova soltanto Clarissa, perché Tim gliel'ha appena lasciata qualche ora prima. Kearney è talmente furiosa e fuori di sé da chiamare il 911 per riferire che suo padre ha rapito la figlia. Ma quando la polizia va prima a casa di Tim e poi nella roulotte di Kearney e Chris, la complessità della situazione emerge con chiarezza. Gli agenti dicono alla coppia che sia Kalia che Clarissa dovrebbero stare dal nonno, che ha una casa migliore, più pulita e ordinata. Quindi ora è Tim che si prende cura di entrambe le sue nipoti. Chris è infuriato, non sopporta che suo suocero gli abbia portato via le sue bambine, ma soprattutto che gli abbia preso la macchina. Ancora una volta Chris confonde le sue priorità e arriva a proporre a Tim di tenersi le bambine purché gli restituisca l'auto. Tim però nel frattempo è assalito dal senso di colpa per aver allontanato le piccole dai loro genitori, anche se a dirla tutta le ha semplicemente portate in un posto sicuro dove qualcuno le tiene sotto controllo. Infine dice a Kearney che se avesse ripulito e riordinato la casa, le le avrebbe riportate. Tre giorni dopo, il 6 ottobre 2017, la roulotte è stata sistemata, quindi Tim accetta di lasciare le bambine a Kearney. Ma la mattina seguente, il 7 ottobre, Kearney fa una chiamata allarmante al 911. Sostiene di essersi svegliata alle 10 del mattino per andare a controllare Kalia, la sua bimba appena nata, e ha scoperto che è scomparsa. L'ultima volta che l'ha controllata erano le 5 del mattino, poi sia lei che Chris si sono addormentati sul divano, ma al loro risveglio la piccola non c'era più. Kearney spiega che l'ha cercato ovunque, ha chiesto ad amici e familiari se l'avessero presa, ma neanche le persone alle vicine hanno idea di cosa sia successo. Quando la polizia arriva nella roulotte nota innanzitutto che Kearney ha un occhio nero. Gli agenti le chiedono di nuovo se abbia idea di dove sia finita Kalia, allora Kearney cerca di incolpare Clarissa, la sorella maggiore di soli due anni. Ovviamente i detective non danno peso all'affermazione di Kearney, anche perché si sono accorti che manca qualcuno all'appello, ovvero Chris. Dove si trova? Si affrettano a domandare. La sua compagna dice di non saperlo, ma la polizia lo ritrova in una zona boscosa dietro la roulotte. Un fatto sospetto, perché sembra che Chris stia proprio cercando di evitare i detective. L'uomo riferisce di essere entrato nel bosco per cercare la piccola kalea. Allora la polizia diventa ancora più sospettosa, perché dovrebbe cercare l'animità di un paio di settimane nel bosco? Gli investigatori portano sia Chris che Kearney in centrale per interrogarli. Nel frattempo delimitano l'area della roulotte, mettendola in sicurezza. Quella per la polizia è già una scena del crimine. Le ricerche per trovare la piccola kalea hanno inizio, mentre i detective interrogano Chris che si mette subito sulla difensiva. Dice alla polizia che lui non c'entra assolutamente nulla con questa vicenda, che a rapiere la piccola deve essere stato qualcun altro. Punta il dito letteralmente contro ogni persona che conosce, ma la sua è una cattiva mossa che rafforza negli agenti la convinzione che il colpevole sia proprio lui. Devono soltanto trovare le evidenze per inchiodarlo alle sue responsabilità. Intanto lo lasciano andare perché non hanno abbastanza per trattenerlo e arrestarlo. Interrogano anche Kearney e nemmeno lei sembra attendibile, ma pure in questo caso sono costretti a lasciarla andare. La coppia a questo punto riprende le proprie ricerche di kalea. Ormai tutta la comunità sa che è sparita. Arriva a questo punto la sera del 7 ottobre. Chris e Kearney si sentono stanchi, così decidono di ritirarsi a casa di un cugino per dormire. La mattina dopo il cugino da cui sono ospiti si sveglia presto per incominciare a cercare la piccola. Quando si alza nota che la coppia sta ancora dormendo sul divano, quindi svegli i due genitori per spronarli a rincominciare le ricerche, ma Chris e Kearney preferiscono rimanere a poltrire. A questo punto rientra in scena Pam che va e viene dalla vita di Kearney. Ha sentito parlare della sparizione della piccola e vuole aiutare. Siccome Kearney e Chris devono rilasciare un'intervista, Pam e un'amica di Kearney di nome Lauren si offrono di aiutarli. Li riaccompagnano alla roulotte con la macchina di Pam, ma neanche fanno in tempo ad arrivare che Kearney riceva una chiamata. Le dicono che la piccola Kalea è stata ritrovata. Kearney e Chris a questo punto si agitano tantissimo, nessuno ha specificato se la piccola sia stata ritrovata in vita oppure no, ma Lauren è ottimista e cerca di consolare Kearney che si tranquillizza e inizia a pensare positivo. Chris invece reagisce in maniera totalmente opposta, inizia a urlare per poi ripetere in modo ossessivo, mi daranno la colpa, inizia ad urlare per poi ripetere in modo ossessivo, mi daranno la colpa, diranno che è colpa mia. Allora Pam ferma la macchina, si gira verso Chris e gli dice di scappare, suggerimento azzardato che il ragazzo non si fa ripetere due volte. Chris apre la portiera, si lancia fuori dall'auto e inizia a correre. Pam continua a guidare verso la roulotte e una volta a destinazione si scopre la verità, la piccola è stata ritrovata senza vita. Il suo corpicino era proprio nella zona boscosa dietro la roulotte dove Chris vagava mentre Kearney parlava con i detective. Durante le ricerche un uomo ha notato un tronco, si è avvicinato e si è accorto che il ceppo copriva una buca nel terreno. Così ha spostato il tronco e all'interno della buca ha trovato una borsa sportiva della Nike. Dentro la borsa, sotto una coperta blu e avvolta da una maglietta grigia, c'era il corpicino senza vita di Calia. Inoltre la borsa conteneva, al di là della maglietta grigia, altri capi d'abbigliamento maschili. Il pensiero che il corpo della piccolina sia stato infilato in una borsa e gettato nel bosco come spazzatura è davvero ripugnante. Ora la polizia deve confrontarsi con un altro problema, la sparizione di Chris. Gli inquirenti chiedono a Kearney dove sia ma lei risponde che non ne ha idea. Così Chris diventa immediatamente il principale sospettato di questo caso e si dà il via a una vera e propria caccia all'uomo. Fortunatamente non ci vuole molto per individuarlo perché dopo un paio d'ore di fuga Chris entra in una stazione di servizio locale. È coperto di fango e si comporta in modo strano. È nervoso, sembra abbia assunto dei cristalli. Si avvicina alla cassa e inizia ad urlare in faccia all'addetta. Non l'ho fatto, non l'ho fatto, non sono stato io. La cassiera che aveva seguito il caso in televisione riconosce Chris e chiama al 911. Chris viene dunque arrestato, finalmente. La borsa in cui è stato trovato il corpo della piccola gli appartiene, così come i vestiti riposti all'interno. Pensate un po', Chris l'indossava proprio la notte in cui la piccola è morta, a cavallo tra il 6 e il 7 ottobre. Courtney tra l'altro sottolinea che il suo compagno andava sempre in giro con quella borsa. L'uomo viene accusato di omicidio colposo, crudeltà verso i bambini, omicidio di secondo grado, percosse e occultamento di cadavere. Intanto le indagini continuano e i detective intuiscono che pure Courtney potrebbe essere coinvolta. A causa della sua negligenza, tre mesi dopo l'arresto di Chris, anche lei viene arrestata e accusata di omicidio di secondo grado e crudeltà verso i bambini. Nel maggio del 2019 Courtney e Chris vengono processati insieme. Durante il processo, che trovate interamente su YouTube, vengono resi noti anche i devastanti risultati dell'autopsia eseguita sul corpo della piccola. Calea riportava diverse ferite alla testa, lividi su tutto il corpo e fratture multiple al cranio. Alcune ossa erano tenute insieme solo dai tessuti molli. Aveva un grosso taglio sotto un occhio che si presume sia stato causato da un oggetto contundente. Inoltre esibiva un importante trauma da corpo contundente alla bocca che le aveva fatto penetrare i denti da latte decidui nelle gengive. Tutte le ferite della piccola erano state inferte contemporaneamente e potrebbero essere state causate da una serie di colpi inflitti con un oggetto o provocati da una ferita da schiacciamento. Questo significa che l'assassino ha colpito la piccola alla testa con un oggetto di grandi dimensioni o le ha battuto il capo contro una superficie dura. Il medico legale ha scartato la possibilità che un televisore o un altro oggetto pesante fosse caduto su Calea mentre dormiva nel suo letto. La causa della morte della piccola si rinviene in un trauma da corpo contundente alla testa. Christopher McNabb è l'ultima persona ad aver visto Calea. Il 7 ottobre tra le 5 e le 10 del mattino, ossia l'arco temporale in cui la piccola è morta, lui non stava dormendo come aveva affermato Kearney. È stato possibile accertarlo grazie ai messaggi che Chris tramite uno dei suoi account fake di Facebook ha mandato a una donna. Si presume che a colpire Calea sia stato proprio Chris dopo aver consumato sostanze. Lui però si dichiara innocente poco prima della sentenza, quindi il giudice gli chiede quale pena dovrebbe infliggere al colpevole del brutale assassino di sua figlia. Chris risponde che merita la massima pena. Il giudice allora risponde ok e lo condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, mentre Kearney viene condannata a 30 anni di carcere. Davanti alla corte, riferendosi alla sua dipendenza, Kearney l'aveva definita come una malattia, sostenendo di aver fatto il possibile per essere una buona mamma. Tuttavia, dopo una telefonata riascoltata durante il processo in cui Kearney si mostrava sconvolta e affranta, il suo viso si era deformato in una smorfia agghiacciante. Un sorrisetto compiaciuto suscitato dall'errata convinzione di aver persuaso tutti della sua innocenza con quella performance. Ahimè, a febbraio del 2022, a pochi anni dal processo, il verdetto della corte viene ribaltato. In mancanza di prove sufficienti a carico di Kearney, la donna è stata rilasciata, libera di riprendere la sua vita. Quanto a Christopher, nonostante i numerosi appelli, è rimasto in prigione. È emerso da subito che è un bugiardo professionista, e non solo. Disgusta la perversione dei suoi pensieri anche quando, una settimana dopo la morte della piccola, ha ricevuto la visita di una psicologa in carcere e ha cominciato a procurarsi piacere toccandosi davanti a lei. Queste e le altre azioni descritte ci fanno comprendere che razza di genitori siano toccati a Clarissa e alla povera Calea. Abbiamo ripercorso uno di quei casi in cui risulta impossibile ricostruire esattamente tutte le dinamiche. Non potremo mai conoscere ogni dettaglio di quell'orribile notte, ma in questo video ho voluto soprattutto ricordare Calea. La sua breve e triste vita non va dimenticata, anche se i suoi occhi azzurri hanno osservato il mondo per soli 15 giorni, cogliendovi tutto l'orrore di cui alcuni esseri sono capaci. Ho finito di parlare di questo terribile caso e io ho guardato tutto il processo su YouTube e se siete interessati vi consiglio anche a voi di guardarlo onestamente per farvi magari un'idea più completa della situazione. Per me questo è davvero un caso atroce, io sono senza parole. Lascio a voi i commenti, fatemi sapere se conoscevate questo caso, perché è abbastanza recente, ma soprattutto fatemi sapere cosa pensate di questo caso. Come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, mi raccomando fatti i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Grazie a tutti!